Il Signore, Perla è agitata per una metafora o a causa di Alessio e Mirko. Videotassetti. La metafora della scarpa di Perla Vatiero non è sfuggita all'attenzione degli spettatori più attenti, né degli autori. Dopo aver appreso che gli autori hanno condotto un'indagine tramite Letizia e Greta per comprendere meglio il significato nascosto dietro la metafora, che sembrava nascondere un messaggio in codice, soprattutto il suo interesse per Alessio, i suoi rivali hanno trovato un modo, possiamo dire infallibile, per cercare di sfruttare la situazione a loro vantaggio. Cerca di convincere Letizia che la metafora delle scarpe si riferisca alla situazione tra Sergio e Greta. Nel video si vede come Perla si rivolga a Greta con un occhiolino inconfondibile, tipico di chi vuole controllare la situazione, nonostante tutte le telecamere siano in grado di catturare anche le più sottili microespressioni degli avversari. Ieri Sergio mi ha parlato in modo metaforico di te, della vostra relazione. La metafora della scarpa. Il fandom della coppia, tuttavia, sembra credere alle scuse di Perla e associa le sue lacrime di ieri mattina più all'assenza di Mirko Brunetti che alla polemica avvenuta con Alessio. Cosa ne pensi? Tentano di convincere Letizia che la metafora delle scarpe si riferisca alla situazione tra Sergio e Greta. Nel video si vede chiaramente come Perla si rivolge a Greta con un occhiolino significativo, tipico di chi vuole influenzare il gioco, nonostante tutte le telecamere siano in grado di registrare anche le più sottili espressioni del suo avversario. Ieri Sergio mi ha parlato in modo metaforico di te, della vostra relazione. La metafora della scarpa. Il fandom della coppia, tuttavia, sembra credere alle scuse di Perla e attribuisce le sue lacrime di ieri mattina più all'assenza di Mirko Brunetti che alla controversia con Alessio.